buongiorno a tutti bentrovati nella fantastica relazione di bergamonews noi siamo il fantabrass quartet e abbiamo avuto l'onore questa mattina di farmi intervista e ora vi faremo sentire due pezzi del nostro repertorio partiremo con un classicissimo buck con l'aria sulla quarta corda e finiremo invece con un modernissimo ghostbusters speriamo che vi piaccia leggete al nostro articolo che abbiamo fatto questa mattina appunto l'intervista e buon ascolto cercateci su facebook e grazie all'ascolto grazie a tutti 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 grazie a tutti